Salve, sono Michele Di Bojamp e oggi volevo presentarvi la nostra azienda che in pratica è una specie di booking Airbnb, però ci occupiamo di noleggio barche. Abbiamo due uffici, uno qui a Valencia che si occupa dei noleggi per il Mediterraneo ed un altro a Miami che però si occupa dei noleggi ai Caraibi. Il nostro team qui è composto da 15 persone, il reparto IT, il reparto vendite, il reparto finanziario, però quello che probabilmente a voi interessa di più il reparto di servizio e assistenza ai clienti che si occupa di voi prima, durante e dopo il processo di noleggio. E grazie a loro che negli ultimi sei anni già 25 mila clienti hanno potuto navigare per tutto il mondo con Bojamp. E tu? Dove ti piacerebbe andare a navigare la prossima estate? Più di 13 mila var che ti stanno aspettando sulla nostra piattaforma. Buon vento! Ciao a tutti!